ora questo qua è un video parlato di giovanni angelo scianti autore piace sempre a gente darsi dei toni in altro che non ha capito un cazzo del signoraggio guardate questo video l'ho messo apposta no c'è bisogno di tornare la comunità sovrana in queste stronzate bisogna armarsi fare un esercio per difendersi non serve meglio non avere nemici stare dentro i confini della propria nazione vivere prosperi e amare tutti gli altri accogliere le cosiddette diversità e allora non avrai problemi tieni i stivali dei militari sul tuo suolo e non avere problemi fatti i cazzi tua con quello che succede all'estero non hai problemi sia autonomo e non avrai problemi ma quest'altro demente visto che mangia carne e altro e non capisce che il soldo deve essere dato gratis come ho detto prima perché un altro che restringe carbo da perché sono pericolosi per ingrassare ma che vuole capire una bella da mazza infatti tornando a carboidrati e restringere queste vivete come zombie fatti sopra scritto li restringe vive come uno zombie caffè 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 stimolanti si fate anche di alco invece mangiate questa roba questa roba questa roba l'ho messo in ordine inverso questa volta anche la marmellata anche lo zucchero e vivrete felici e contenti spensierati e non fatevi problemi a mandarne giù a sazietà ovvero sia quanto ne serve nel corpo è impossibile che mangerete in eccesso di carboidrati se il corpo vi richiede quel giorno 3 400 grammi che sono di riso 500 grammi cotto mangiatene senza problemi vedete che il giorno dopo vi guardate con la ciotola di riso io non ho fame e non mangio capite come funziona con questi signori qua riempite le scorte di carboidrati all'interno di tutte le cellule perché non vanno solo dentro i muscoli tutte le cellule ci hanno questo combustibile stoccato dentro sotto forma di glicogeno soprattutto quelle poi diciamo celebrali del cuore e del sistema nervoso che vogliono il fruttoso quindi mettereci un po di frutta prima di questo e dopo di questo e ragazzi spingerete come degli ossessi comincerete a essere dei visionari e meno utopici e comincerete a vedere le cose per come sono quindi sotto con i carboidrati fate la sfida che vi ho detto di una settimana e vivrete felici e contenti e non tornerete più indietro poi se cominciate a controllare le porzioni o le calorie o quelle scemenze saranno cazzi amari come ho detto no parlando sempre di carboidrati famosi che fanno ingrassare mi viene a dire che questi qua sono dolci quando sono una palla di lardo e tutte quelle lardo che c'è qui diventa lardo non di certo i carboidrati quindi questo addirittura fritto addio fegato quindi quando uno dice che andato che dice che fritto cotto bollito tiramisù e questo è fatto tutto di grasso e chi ti chiede normale diventate grassi perché sentite un po dolci dite che è dolce questo mamma mia peggio ancora quindi sotto con questa roba se volete ingrassare e sotto invece con la roba che ho fatto vedere prima se volete essere belli e dimagrire e questo perché cerchiamo i sapori nei piatti perché ci sentiamo insoddisfatti deriva da quello che ho detto prima e perché si mangia troppo l'assenza della fame vera è il motivo e poi il mangiare in modo insoddisfacente quindi che non siano zuccheri quindi insieme carboidrati non può soddisfare il corpo e quindi ecco che cosa succede cerchi sempre di mangiare 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 prendete una ciotola di riso prendete comprate mezzo chilo di riso cuocete mezzo chilo di riso ve lo mettete davanti e quando avete finito che non potete più levatelo e poi andatevi a pesare il giorno dopo che avete cagato e guardate come siete il peso lasciate un periodo di adattamento e vedrete come spingerete come degli ossessi non vorrete toccare null'altro di cibo perché siete sazi a livello cellulare invece con quella roba sola siete sazi a livello mentale ma non fisico e quindi cerchete sempre qualcosa di particolare particolare ne ho fatte di prove e di ricerche e non funziona e arrivano i sensi di colpa oltre che problemi fisici con questa roba no